è una partnership che si è costruita nel tempo negli anni anche perché si è subito sposato con la nostra integrazione della nostra strategia di canale che è quella del valore aggiunto del distributore per noi il valore aggiunto del distributore significa fare recruitment quindi uno dei valori importanti e fondamentali che oggi siamo qua è dovuto al fatto di fare recluse cioè di nuovi partner che la linfa vitale per per noi sofos il secondo passo è la nebling che riguarda la formazione dei prodotti sofos che vengono tenuti in aula direttamente dal distributore da olnet in questo caso e poi c'è tutta una parte di on boarding del dei dei rivenditori che significa portarli a bordo proprio con sofos e poi c'è una fase ovviamente molto importante che quella del post vendita che vuol dire che c'è un primo soccorso d'aiuto che olnet dà alle esigenze che vengono fatte al primo livello alla nostra missione si sposa benissimo con la digital transformation perché perché abbiamo la possibilità di un unica manager di gestione tenere tutto sotto controllo e attraverso la soluzione unica che sofos ha che la sicurezza sincronizzata permette di dare di far guadagnare tempo alla liti manager denaro ma soprattutto ad avere un'efficacia contro gli attacchi malware malevoli per l'opportunità però fili partner sofos vabbè sono diverse uno dal punto di vista di canale nel senso che grazie al programma di canale riesce a seguire il reseller dall'inizio alla fine di un progetto questo è sicuramente molto importante anche perché noi siamo strutturati in modo tale da avere proprio un team di canale il secondo è proprio invece legato più a una soluzione tecnica che è quella della sicurezza sincronizzata che è una piattaforma flessibile che permette di poter cambiare i giochi ovviamente in campo nel senso che non è più una sostituzione di quello che può avere il mercato ma è un qualcosa che può crescere nel tempo nei confronti con i clienti quindi aumentare anche il numero di clienti